L'esordio della settimana scorsa è stato incredibile, sono davvero onorato e contento di partire titolare questa settimana, è una responsabilità grande, però davvero non vediamo l'ora di scendere in campo e riportare quello che di buono abbiamo fatto la settimana scorsa e lavorare invece sui punti in cui abbiamo mancato. La squadra sta bene, è vero abbiamo preso 40 passapunti quindi veder il lato positivo è un po' difficile ma ripeto c'è stato, l'attacco, il 100% in tush, un po' di difficoltà in mischia, appunto questa settimana ripartiremo un po' con l'attenzione sulle cose andate meno bene e assolutamente confermando invece i punti di forza che sono stati la settimana scorsa. Vogliamo assolutamente rallentare i loro palloni, quindi lavorare duri nei punti di incontro, avere palloni puliti per i nostri tre quarti, quindi la responsabilità delle fasi statiche sarà importantissima e tenere il pallone, segnare mete, continuare a fare punti più possibili per creare momentum e dare fiducia a tutta la squadra.